Benvenuti sul mio canale sono Ali Gabriel e oggi siamo qua in un nuovo episodio di Will Rock se non vi ricordate le scorse puntate perché giustamente i video sono usciti nel 2017 vi lascio qua sotto in descrizione è un gioco abbastanza vecchio questo qui ricordate comunque un ragazzo questo Will Ford Rockwell che è un archeologo che sta affrontando un esercito della rifondazione dell'Olimpo che non si sa come è riuscito a ripristinare comunque a riportare in vita determinate creature e quindi io partirei anche se non sento effettivamente nulla guardate c'è il salvataggio al 2017 ancora alle 18.10 questo del 2021 sì perché alla fine quello del 2017 era andato perso quindi ho dovuto rifarlo va bene abbiamo preso i poteri dei danni titanici i poteri cosa ci mancava qua quello del tempo non ce l'ho però non ce l'ho quindi andiamo avanti siamo scesi la scorsa volta la scorsa puntata abbiamo affrontato il ciclope framerate un po ballerino ok finito qua finiva qua a livello benissimo quindi missione 2 il dominio di Efesto gioco un po' a tratto in magistra comprensibile vista l'età c'è qualcuno qua non è possibile neanche le statue ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì ecco lì lo vorresti beccarmi te io posso salire sul ah oddio cazzo pure gli alligatori mi scuso già per l'audio ma non so perché non funziona chi è dove odio gli schieretri no era solo basso il volume ma chi cacchio è ah quello là guarda che vi potrei fare eh voleva un cazzo le ciao ma devi buttarmi di sopra ma che hai capito stanno spawnando un cazzo si passa avanti quando i nemici sono tutti morti di solito i nemici sono tutti morti di solito forse su scaccio cazzo schieretri oh c'abbiamo fatta oh ma basta ok possiamo andare secondo me devo per forza lanciarmi perché sennò non c'è non ci arrivo fin là riproviamo via ballo bellissimo adesso ho messo al bordo proprio per cercare di arrivare sul sul portone oh oh chi so chi so cani cani lupo tiger oh ma muori per il frattempo ho fatto qualche modifica per la luce perché sennò non si vede veramente una mazza c'è meno buio quanta topina 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 qua sto parlando no gli uccellaci del malagurio no dai avanti madonna ma basta guarda guarda tutti i riflessi del sole ci vediamo che cacca guarda come si pianta nella struttura cosa vuole sto qua va che gara ci ho messo comunque una difficoltà abbastanza facile giusto per non rendere il gioco troppo difficile e non a quei cancelli ehm non abbiamo mica visto post sollevate tutte e due difficile molto molto andiamo beh good luck my guess vabbò qua è difficile ma quelli che punzecchiano sono per lo più quelli da lontano poi attenti anche alle statue eh cazzo se sono bastarde quelle statue la perché sono alla fine dei nemici vi lanciano contro quelle palle oh sta Larry rotto il cazzo comunque bene o male se ci pensate sono solo nemici che sparano da lunga a media distanza cioè per il resto se vi vengono vicino vi fanno un altro attacco però sono tutti ma tutti nemici che vi sparano da lunga a distanza dobbiamo vedere prima a sinistra se c'è qualcosa qua allora qua è chiuso e va bene andiamo giù adesso mi da tutta stramatura ho paura ma che ca... ma infatti ma basta ma state morti e fine cosa vuole siamo finiti di qua se ok ok ho raccolto il tesoro io ritorno al centro e dovrei andare di la però di la mi sa che è chiuso oh oh no 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 Grazie a tutti.